Prima lo hanno minacciato puntandogli un collo di bottiglia alla gola, poi lo hanno inseguito ed infine con fare sempre più violento lo hanno costretto a consegnargli il borsello. È stata così una vera e propria notte da incubo quella appena trascorsa per un 22enne rapinato da due uomini già individuati dalla polizia lungo le strade di Saione. I due malviventi avrebbero avvicinato il giovane chiedendogli del denaro. Al rifiuto uno dei rapinatori avrebbe spaccato una bottiglia e con il collo in vetro lo avrebbe minacciato. La vittima a quel punto ha preso il portafogli, ha lasciato cadere una banconota da 20 euro ed è scappato chiamando la polizia. Uno dei rapinatori però lo ha raggiunto poco distante e con minacce sempre più esplicite lo ha costretto a dargli tutto il borsello con 300 euro ed una carta di credito. Immediate le indagini della squadra mobile che grazie anche alla descrizione fornita dalla vittima è riuscita a risalire l'identità dei due malviventi in tempo record. Si tratta di due uomini, un tunisino di 26 anni ed un italiano poco più che quarantenne. Entrambi con precedenti adesso devono rispondere di rapina commessa in concorso. Dagli accertamenti è poi emerso che il quarantenne ha usato più volte la carta di credito pagando piccole somme di denaro, quindi senza la necessità del PIN. Acquisti ripresi dalle telecamere di video sorveglianza dei negozi per questo è stato anche denunciato per il reato di indebito utilizzo di carte di credito.